Buonasera, vediamo quali sono i titoli di oggi. Inaugurata la sezione di polizia giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato, in aumento i reati ambientali ed agroalimentari, in regione si lavora anche con la procura antimafia. Enti locali e categorie hanno firmato oggi il protocollo per le legalità e lo sviluppo del settore ricettivo. Sarà creata una banca dati con le carte d'identità degli alberghi. A Eradri ha aperto il processo penale per violazione della legge fallimentare, Masini oggi in tribunale ha risposto a PM e Guardia di Finanza su bilanci e richieste di finanziamenti. Via Libera in Commissione a Rimini ha le linee guida per la redazione del bilancio, si è parlato di Imo, Piscina, Quinto Pep, ha approvato anche un emendamento per la stabilizzazione delle insegnanti dei nidi Bruco Verde e Cerchio Magico. Ben ritrovata in studio, dunque è stata inaugurata ufficialmente oggi la sezione di polizia giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato. L'apertura della nuova sezione a Rimini completa un percorso iniziato già da tempo che va ad intensificare l'attenzione sul territorio in materia di reati ambientali e da agroalimentari che sono in forte aumento. Da molto tempo la crisi ha ridotto anche la disponibilità di uomini il cui compito nella società è assicurare i malfattori alla giustizia. Per questo, per la procura di Rimini e non solo, oggi è stato un giorno di festa. E quindi avere invece l'istituzione di una nuova presenza nella sezione di polizia giudiziaria vuol dire due persone in più che vengono a lavorare da noi ed è una cosa positiva appunto perché a noi le persone servono per fare le indagini, per fare i processi e per il buon andamento dell'ufficio, quindi non posso che essere contento. Il comparto agroalimentare è un settore importante della nostra economia, anche delle nostre esportazioni. C'è molto allarme su questi argomenti giustamente e quindi sono settori rilevanti della nostra attività. La collaborazione con la procura negli ultimi tre anni ha portato ad un sensibile aumento dell'attività di polizia giudiziaria della forestale. I reati totali sono quintuplicati e soprattutto in quasi tutti i casi i trasgressori sono stati identificati e puniti. E la cosa importante è che nei settori di maggior interesse per il corpo forestale quindi la tutela del territorio, la tutela della fauna e della flora, gli incendi boschivi, le discariche e gli inquinamenti. L'aggiunta di questa nuova sezione di PG, oltre al nucleo investigativo di polizia ambientale e ai sei comandi stazione presenti in provincia, servirà a tenere gli occhi più aperti visto che i reati ambientali ed agroalimentari sono in aumento. C'è da lavorare perché questo è un territorio fondamentalmente sano sotto il profilo della produzione e pertanto è un territorio appetibile. Posso dire che stiamo lavorando in varie zone dell'Emilia Romagna e registriamo che ci sono dei fenomeni disvaloriali abbastanza forti sui quali tuttora stiamo facendo delle indagini non solo con le procure territoriali ma anche con la procura antimafia. E a proposito di ambiente, dal luglio 2012 a maggio 2013 sono state 1116 le isole ecologiche controllate nel comune di Rimini dalle guardie ecologiche volontarie e sono stati 12 i trasgressori sanzionati. Dal 24 maggio dello scorso anno infatti è in vigore l'ordinanza comunale sul corretto conferimento dei rifiuti che consente anche alle guardie ecologiche di aprire i sacchetti dell'immondizia per arrivare poi al nome dei trasgressori. Le guardie ecologiche volontarie sono 142 e collaborano con Polizia Municipale ed ERA. È stato firmato pochi minuti fa in Prefettura a Rimini il protocollo per la legalità e lo sviluppo del settore ricettivo alberghiero. Firmatari sono Prefettura, Comuni Costieri, Associazioni degli Albergatori, Camera di Commercio, Consiglio Notarile e gli Ordini di Commercialisti, Architetti ed Ingegneri. Oltre a controlli preventivi sulle strutture contro il rischio di infiltrazioni sarà creata una banca dati con le carte d'identità delle proprietà alberghiere. Altra priorità chiesta soprattutto dagli operatori è la semplificazione burocratica. Altri protocolli simili sono previsti per gli esercizi commerciali, in particolare quelli sensibili come i comprooro e le sale slot. A presentare il protocollo è stato il prefetto Claudio Palomba. La prevenzione è attraverso delle verifiche che concorderemo a Campione su tutte le segnalazioni di iniziatività alberghiere, laddove ci sono degli indici di criticità, soprattutto per frequenze di cambi di gestione che potrebbero essere problematici e vanno ovviamente verificate, oppure per acquisizioni da parte di persone ultra sessantenni o titolari che hanno già dei precedenti penali o amministrativi. Tutte queste situazioni saranno verificate a Campione attraverso il sistema delle certificazioni antimafia per andare a verificare la sussistenza o meno di anomalie. Dall'altro lato, questo sistema si completa con un tavolo di monitoraggio e con la creazione di una banca dati. Al tempo stesso, perché noi siamo convinti che sul territorio c'è una gran parte sana e quindi lo dobbiamo prevenire da fenomeni di questo tipo, collegandosi con l'istituzione del distretto turistico, si vuole incentivare al massimo le politiche attive di settore, quindi la riqualificazione delle strutture più andanti oppure la creazione di cooperative, consorsi, anche nell'ambito praticamente di lavoratori dipendenti dello stesso settore. Quindi si dovrà collegare con il distretto turistico in modo da garantire che questo settore, che è un settore fondamentale nell'economia riminese, sia un settore sano e che possa rilanciarsi al più presto. Via Libera in quinta commissione a Rimini, alle linee guida per la redazione del bilancio 2013. Al centro del dibattito i maggiori oneri di urbanizzazione per il quinto PEP e la nuova piscina comunale invariata, LIMU, in chiusura via libera ad un emendamento che impedisce all'ASP Valloni di subappaltare a terzi la gestione di due nuovi asili nidi. Il documento sarà giovedì al vaglio del Consiglio Comunale. Otto voti a favore e cinque contrari per le linee guida del bilancio presentate in commissione dall'assessore Brasini. Capitolo IMU, l'amministrazione non ha intenzione di aumentare le aliquote. Rimarranno quelle 2012 con la prima casa al 4x1000. La sospensione della rata di giugno, decisora al Governo, non comporterà problemi contabili al Comune. Altro tema caldo, i maggiori oneri di urbanizzazione per il quinto PEP. Chiedere nel pagamento è obbligatorio, ha spiegato Brasini, ricordando però che il Comune dovrà avanzare le richieste entro settembre per non far prescrivere il credito. Nell'area insistono 1200 appartamenti con 3500 residenti. La maggior parte dovrà sborsare tra i 2000 e i 4000 euro. Il Comune prevede rateizzazioni fino a cinque anni al tasso di interesse legale minimo. Nella zona, tra qualche anno, potrebbe sorgere anche la nuova piscina comunale, la cosiddetta acquarena, che dovrebbe coprire il vuoto lasciato dall'auditorium, è stata inserita nelle linee di bilancio. Avrà una vasca da 25 metri, più quelle dedicate ai bambini e all'acqua gym. Quando sarà ultimata, il Comune lascerà la vecchia piscina accanto al Palaflaminio, obsoleta e costosa, 370.000 euro annui. Difficile però stabilire i tempi di realizzazione, visto che il progetto rientra in una variante urbanistica che prevede anche commerciale e residenziale, e che deve ancora passare dal Consiglio. Infine, in chiusura di Commissione, pariere favorevole a un emendamento presentato dai consiglieri Galvani, Pazzagli e Brunori. Quattro voti a favore, ai tre si è aggiunta la Franchini dei Cinque Stelle, sette astenuti e due no dal PD, per la richiesta di stabilizzare 15 dipendenti dei nuovi nidi comunali. Stiamo parlando dei due nuovi nidi, Brucco Verde e Cerchio Magico, che sono attualmente in gestione all'Asp. sono stati affidati appunto nel 2010 per impossibilità da parte dell'amministrazione di fare assunzioni in quel preciso momento. Oggi l'amministrazione sarebbe in grado di assumere personale proprio. Non lo può fare per altre ragioni di bilancio, ma crediamo sia importante mantenere l'affidamento all'Asp che fino ad oggi ha garantito qualità ed efficienza del servizio. Noi crediamo che il sistema integrato sia un sistema ancora valido, importante, ma il pubblico non deve assolutamente recedere dal proprio ruolo. Da valutare l'impatto economico, spiega Brasini, ricordando però che l'amministrazione è chiamata a fare scelte alla luce delle risorse a disposizione, o se aumentano i posti nido, dice, o il personale. Non è detto che si riescano a conciliare entrambe le cose. Oggi il presidente della società di gestione dell'aeroporto Fellini, Massimo Masini, si è ripresentato in tribunale, ma non per la richiesta di concordato come la settimana scorsa, ed è proprio la settimana scorsa che si riferiscono le immagini, bensì per essere sentito da PM e guardia di finanza in qualità di indagato sulla vicenda eradria. In una nota i suoi avvocati Alexia Armaroli e Cesarina Mita-Ritonna hanno fatto sapere che il presidente Masini non ha avuto difficoltà a rispondere chiaramente ai richiesti dalla procura. I passaggi trattati avevano tutti evidenza documentale. Gli argomenti hanno riguardato le indicazioni di bilancio, con particolare riferimento ai contributi dei soci per promozione e marketing e ai finanziamenti richiesti agli istituti di credito. Poi la nota si conclude con questa frase vi è la serenità di essere stati completi ed esaustivi. Nei prossimi giorni la procura chiamerà anche gli altri membri del CDA dell'aeroporto indagati per violazione della legge fallimentare, mentre entro domani il tribunale dovrebbe pronunciarsi sul concordato. E siamo alle notizie di tutto in 100 secondi. Con una lettera inviata dall'ingegner Lino Rossi all'assessore Visintin, il Comitato del Teleriscaldamento di Rimini ufficializza la rinuncia alla partecipazione al tavolo tecnico istituito dal Comune. Il motivo è la mancanza di risultati dovuta, secondo il Comitato, anche all'atteggiamento dell'amministrazione incapace di mediare in modo eco tra cittadini ed SGR. I parlamentari Petitti e Arlotti del PD hanno sottoscritto il disegno di legge elaborato insieme alla Confesercenti nazionale che prevede agevolazioni fiscali per le piccole botteghe alimentari. Nel 2012 in provincia di Rimini hanno chiuso 461 negozi nei primi due mesi dell'anno 142, con una media di due esercizi e mezzo al giorno. Gianluca Ugolini è il nuovo vice sindaco di Coriano. Sostituisce il dimissionario Giuseppe Arangio, che ieri ha rassegnato le dimissioni. Il sindaco Spinelli ha nominato Michele Morrigia, consigliere di progetto comune, assessore con delega personale, sanità, politiche sociali e ambiente. Resterà invece in carica al sindaco La Cultura. C'era anche un gruppo riminese tra le 600.000 persone che hanno partecipato a Piacenza all'86esima adunata nazionale degli Alpini. Insieme a loro anche l'assessore Imola. Rimini potrebbe candidarsi ad ospitare una delle adunate dei prossimi anni. Ieri pomeriggio un'Ucraina ha incontrato per caso il proprio convivente nel retro di un bar nel centro di Sant'Arcangelo insieme ad una giovane connazionale. Da lì è partito il diverbio, al quale poi si sono aggiunte altre due Ucraine che se la sono presa con la più giovane accusata di avere portato via l'uomo alla sua convivente. Alla fine si sono accapigliate in quattro davanti ai passanti, sono intervenuti i carabinieri. È stato presentato nei giorni scorsi nella sede della Fondazione Karim il secondo volume della storia della Chiesa riminese dalla lotta per le investiture ai primi anni del Cinquecento. Promosso dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose Marvelli e dalla Biblioteca Diocesana Biancheri il libro, grazie agli editori Pazzini e Guaraldi, ha una doppia veste, cartacea e digitale. Dall'anno 1000 fino all'epoca malatestiano, un periodo intenso e ricco di eventi quello raccontato nel secondo volume della storia della Chiesa riminese città di confine, Rimini, già a quel tempo era contesa tra più poteri. È una storia originale per la sua collocazione di confine tra papato e impero e Ravenna da una parte e Roma dall'altra, quindi c'è sempre questo gioco. Dopo il XII secolo Rimini viene a far parte dello Stato Pontificio. All'interno poi di questo Stato della Chiesa Rimini significa Signoria dei Malatesti, quindi c'è un continuo gioco fra Signore locale e Papa. I primi fermenti della riforma, la lotta per le investiture, l'eresia catara, l'inquisizione, e tanti gli aspetti affrontati dal testo che porta alla luce anche lo spirito solidaristico che si sviluppa come risposta alle ampie sacche di povertà esistenti. C'è lo sviluppo per esempio di un volontariato cattolico, se così dire, che si manifesta nella dedizione ad attività caritative negli ospedali. Nel riminese ce ne erano 121. Nel 200 con gli ordini mendicanti, soprattutto con i minori, cioè i francescani, ma anche i dominicani che hanno avuto un'importanza notevole, non solo dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista culturale. Il volume è il secondo di una più ampia opera che in quattro libri racconterà la storia riminese dalle origini all'età moderna, un progetto ambizioso a cui stanno lavorando oltre 60 studiosi. Il tentativo di ricostruire in modo unitario e sistematico la storia della nostra Chiesa, ripensandone le coordinate dal punto di vista, diciamo così, non solo della storia ecclesiastica, ma della storia civile e culturale del territorio, con al centro l'esperienza della vita della Chiesa. L'integrazione culturale e linguistica europea passa prima di tutto dalla scuola. A Riccione, al liceo Voltafellini, con il progetto europeo Comenius, si incontrano studenti da Germania, Turchia, Lettonia e Riccione. Si chiama Comenius ed è un progetto che ha come obiettivo specifico lo sviluppo della conoscenza e la comprensione delle diversità culturali e linguistiche. Un'iniziativa colta al volo da Riccione con il liceo Voltafellini, assieme a studenti provenienti da Turchia, Lettonia e Germania, che in questa settimana hanno fatto visita proprio alla realtà riccionese. Così, nell'auditorium Montalcini di Riccione, la delegazione di studenti ed insegnanti si è incontrata. Un meeting con la possibilità di promuovere e diffondere le migliori prassi nel settore dell'istruzione, compresi nuovi metodi e materiali didattici, ma in fondo l'opportunità anche di conoscere una lingua ed una cultura diversa. Direi che è la scuola l'elemento dal quale partire l'Europa, l'Europa Unita, quella che tutti desideriamo deve partire proprio dai saperi, dalle competenze. Questa è la sfida enorme che abbiamo noi oggi davanti. Vorremmo e desidereremmo che questo paese riuscisse una volta per tutte a fare un salto di qualità forte e un investimento forte sulle nuove generazioni che permetta poi anche di trovare lavoro e quindi ai nostri ragazzi di portare quelle esperienze nel nostro paese. Ma gli scambi, gli scambi internazionali, quelli che l'Europa sta favorendo in questi anni, serve proprio a queste. E adesso andiamo in un'altra scuola, l'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo, dove si è svolta la decima edizione del premio di poesia, prosa e immagine dedicato a Morena Ugolini. Un concorso a premi tra gli studenti delle scuole superiori di Rimini. La manifestazione intitolata a una studentessa del Marco Polo, appunto Morena Ugolini, scomparsa in giovane età e lo scopo del premio è di invitare i giovani studenti riminesi ad esprimersi attraverso la scrittura e l'immagine. Quest'anno è il decimo anno del premio di poesia, prosa breve e illustrazione intitolato a Morena Ugolini. Morena Ugolini era mia sorella, deceduta nel 2000. Era una scrittrice, una poetessa e le sue professoresse hanno voluto continuare questa sua potenzialità di scrivere poesie e chiedendo anche ai ragazzi delle scuole medie e superiori di partecipare. In effetti molti ragazzi hanno partecipato, hanno espresso i loro pensieri e siamo contenti dell'esito. Questa decima edizione segna per tutti noi, in primis per la famiglia di Morena, per tutta l'organizzazione che in maniera volontaria ma con tanta passione e tanto affetto in questi dieci anni ha fatto sì che il concorso raggiungesse livelli molto alti. Tutti gli studenti, le scuole, i docenti che hanno partecipato e accompagnato in questo cammino di dieci anni l'animo di Morena che senz'altro cresce come cresciamo tutti noi. Ogni anno è un'esperienza meravigliosa perché ci si incontra con l'animo dei ragazzi. I ragazzi si esprimono, esprimono le loro emozioni, le loro sofferenze. A volte riescono a liberarsi di questa sofferenza attraverso la poesia. È una poesia data dal fatto che sostanzialmente prendo il tram tutti i giorni ed è sempre in ritardo. Questo mi ha spinto un po' a riflettere, ad allargare questo mio stato di attesa della mattina al mio stato di attesa nella vita. Che cosa mi aspetto che arrivi a quella fermata? Cercheremo di abbattere i muri per poter continuare questa modesta ma molto importante iniziativa perché vedo che gli studenti, anche se non sono spinti da insegnanti o spinti dall'esterno, vogliono partecipare e richiedono questo tipo di iniziative. Prosegue la visita pastorale di Monsignor Lambiasi. La scorsa settimana il Vescovo ha visitato la parrocchia della Resurrezione alla Grotta Rossa. Ecco un'anticipazione dello speciale sulla visita in onda su Icaro TV tutti martedì alle 19.45, in replica il venerdì alle 22 e la domenica alle 13.30. È la primavera del 1968 quando Don Oreste Benzi, Don Elio Piccari, Don Sisto Ceccarini e Don Romano Migani chiedono a Monsignor Biancheri di poter iniziare alla Grotta Rossa un progetto di vita comunitaria con l'intenzione di fondare una nuova parrocchia. I quattro sacerdoti iniziano così, dopo il consenso del Vescovo, a visitare le famiglie e a celebrare la messa nelle prime tre chiesette provvisorie. Siamo arrivati nel 1968, in maggio, in questo periodo, abbiamo chiesto al Vescovo Bianchia se potevano fare esperienze di sacerdoti, Don Oreste, Don Sisto, Don Romano Migani, Don Elio. Il Vescovo ha detto di sì, però ho provato per un anno, poi mi direte come è andata. Siamo arrivati e a due e due siamo andati in tutte le famiglie, la parrocchia, chiedendo alla gente... Noi ci siamo presentati, siamo noi preti, cosa volete, se bisogna qui, la chiesa e l'asilo, lì per cercare di rispondere, ma bisogna che la gente venga in quel momento. È naturale, è fisiologico, che dopo 40-45 anni alcune cose si siano sedimentate positivamente, altre naturalmente hanno l'usura del tempo e quindi inevitabilmente anche da un punto di vista culturale 40 anni segnano un passaggio e quindi la presenza anche dalla parrocchia, il modo di vivere anche la pastorale inevitabilmente cambia. E siamo arrivati alla pagina sportiva con il calcio. Il tecnico del Rimini, Luca D'Angelo, è tornato a parlare dopo le quattro giornate di squalifica per la manata a Fanucchi al termine della gara con l'Alessandria. Lo ha fatto in anteprima la nostra trasmissione Calcio.Basket e sentiamo alcuni brani del suo intervento telefonico, ricordando che la puntata di ieri sera sarà trasmessa in replica questa sera attorno alle 23 su Icaro Sport, quindi naturalmente sul canale 211. Vediamo. Luca, come hai vissuto anche a livello umano, personale, queste quattro domeniche di squalifica? La squalifica era giusta e perciò non l'ho vissuta sicuramente come l'ingiustizia. Non mi sono accanito contro il giudice che ha deciso per le quattro giornate, anzi mi aspettavo anche di più. Le ho vissute, se devo essere sincero, con grande tranquillità, nel senso che si sta quasi meglio fuori in tribuna, la si vive in una maniera diversa, forse si vede meglio anche la partita. Non ci sono i prepartiti del sabato, soprattutto non c'è il dopo partita della domenica. È stato emozionante vederlo, perché in una situazione di classifica così negativa avere una situazione al favore non è mai facile, soprattutto nel calcio, vuol dire che la maggioranza dei tifosi è andata al di là di quelli che erano i risultati, ma si è legata più d'altro all'uomo. Soprattutto prima, ovviamente che avrebbero dato le dimissioni, è stato un colpo duro, perché con tutte e tre queste persone, Paolo, in maniera particolare, individevamo anche la camera quando giocavamo insieme, credo che sia uno dei miei migliori amici, il fatto che questi tre personaggi siano andati lì ha colpito in maniera negativa a me, nel senso che è ovvio che mi manchino, perché siamo partiti insieme in questa avventura. E l'amministratore delegato del San Marino, Germano De Biagi, si lura il direttore sportivo Giannitti e il tecnico Acori, dicendo sono adatti per squadre di serie A e B, non di Lega Pro, non vedono i giovani, ha detto il patron biancazzurro, che ha invece espresso parole di elogio per il presidente Danilo Pretelli. Ha detto è un ragazzo eccezionale e con grande entusiasmo, gli manca un po' d'esperienza, dieci giorni e la società dovrebbe essere a posto. La conferenza stampa di De Biagi sarà trasmessa in integrale su Icaro Sport questa sera alle 21 e domani alle 11. Il presidente Pretelli incontrerà gli organi di informazione. In chiusura, una notizia appena giunta in redazione, la giunta di Confindustria, Rimini, a scrutinio segreto, ha designato il candidato presidente al posto di Maurizio Focchi, che ha raggiunto il secondo mandato. Questo l'esito, Maggioli 18 voti, Pesaresi 11 voti e due schede bianche. Il candidato espresso dalla giunta sarà poi proposto all'Assemblea del 3 giugno, che voterà il prossimo presidente. Era l'ultima notizia, grazie a tutti voi dell'attenzione e vi ricordo di continuare a seguirci sulle frequenze di Radio Icaro e sul sito di informazione newsrimini.it. Vi lascio all'appuntamento con il Meteo dalla redazione. Buona serata.